Focus sulle nuove idee sono sempre fondamentali, lo diventano ancora di più quando il mondo dell'impresa deve rimettersi in moto dopo un lockdown diventando fattore di competitività e di successo. Confindustria Chieti e Pescara ne accompagna la creazione con l'avvio dell'osservatorio dell'ecosistema innovativo delle aziende di Chieti e Pescara, strumento valido per valorizzare il capitale umano impegnato proprio nel campo dell'innovazione, ideato in collaborazione con Federmanager Abruzzo e Morise e con il supporto di fondi dirigenti e portata avanti da Explo, lo spin-off dell'Università d'Annunzio nel campo della ricerca e dello sviluppo, soggetto vincitore del bando inerente all'osservatorio e che avrà il compito, tra le altre cose, di coinvolgere manager delle aziende eccellenti del territorio. Dunque una squadra fatta di competenze che punta alle nuove tecnologie attraverso l'uso di algoritmi che analizzano mole di dati importanti nell'ambito dei big data. E cosa vogliamo trovare da questa miniera di dati? Il progetto grazie a questo riuscirà a mappare l'ecosistema locale per favorire gli incontri tra le stesse imprese, i portatori di interesse, approfondire la conoscenza sulle varie specializzazioni, rilevare anche i trend tecnologici e individuare distretti, reti, concentrazione di aziende che operano in specifici ambiti settoriali o tecnologici. E' anche quindi uno strumento importante di geolocalizzazione dove insistono queste competenze tecnologiche. Ecco, questo favorea anche futuri insegnamenti da parte di imprese che vorranno investire in Abruzzo, quindi qualcosa che va ben oltre il codice Ateco. Pensate alle opportunità che si vorranno creare con la ZES quando finalmente arriverà per consentire a potenziali imprese di avere una mappatura delle competenze locali. L'osservatore accenderà dei riflettori sul nostro Abruzzo e fornirà indicazioni su quali siano le aziende capaci di attrarre maggiormente gli investimenti. Verrà realizzata anche una web app consultabile dalle aziende attraverso la quale si potranno individuare potenziali partner, avviare collaborazioni, insomma sfruttare tutte le energie messe a disposizione.